Terz'ultima di campionato, il Rimini, fanalino di coda, deve battere la San Benedettese per continuare a sperare nella salvezza. In classifica le due squadre sono divise da 10 punti, con il rosso bloccato a 44 e il bianco rossi a 34. Mister Petrone deve far a meno dello scuodificato Limi e degli infortunati Simoncelli, Danso, Pier Federici, Arlotti, Valerionave e Venturini. Guiebre, Brighi, Palme e Variola giocano titolari. Il primo pericolo lo costruiscono gli ospiti. Russotto tenta il lobo un passo dentro l'area, pallone oltre la traversa. Al settimo il Rimini batte il primo angolo del match. Candido pennella dalla bandierina per Ferrani, che di testa da due passi supera Sala, vincendo il duello aero confissore. Bianco Rossi in vantaggio. Quarto centro stagionale per il difensore riminese, che fa esplodere la sua gioia sotto la tribuna centrale. Al nono Russotto per Signori, pallone basso per Rapisarda, che calcia contrastato da Marchetti, scotta i salve in maniera miracolosa, poi anticipa anche Stanco. Al diciannovesimo tacco di Russotto per Signori, che crossa ad esterno. Scotti anticipa Fissore, Rapisarda anticipa Guiebre, ma impatta male. Il portiere Biancorosso recupera il pallone. Alla mezz'ora corner di Russotto, Fissore svetta di testa, Scotti salva ancora il risultato. Al trentatresimo la Samba pareggia. Rocchi per Stanco. Tacco a favorire l'inserimento di Ilari, che entra in area di destro Fredda Scotti per l'1-1. Al trentaseiesimo Guiebre recupera palla, il destro di Variole è potente ma centrale, sala blocca con sicurezza. Al quarantaduesimo Rocchi controlla e calcia dei venti metri, sfera oltre alla traversa. Nello stesso minuto, dall'altra parte del campo, il tentativo di Palma si spegne a lato. All'ottavo della ripresa Guiebre lascia partire una fiondata dei venticinque metri, pallone di poco alto. Al decimo sponda di Piccioni per Candido, che calcia di prima, sala si salva in angolo. Al diciassettesimo Guiebre si infila tra le maglie verdi e spara di sinistro. Sala ribatte, Fissore si rifugia in corner. Al ventiquattresimo scocca l'ora di Volpe, che entra al posto di Piccioni. Non passano neanche due minuti e proprio il neo entrato riporta in vantaggio i biancorossi. Candido da calcio piazzato apre a destra per Palma. Cross al centro, dove Volpe impatta in maniera vincente, 2-1. Settimo centro stagionale per il capocannoniere di Romagnoli, nella cui esultanza c'è un po' di tutto, anche tanta rabbia. Al trentunesimo il cross di D'Ignazio è deviato da Brighi. Di Massimo appena entrato in campo alla chance giusta, Scotti respinge di piede. Al trentacinquesimo Montanari soffia il pallone ad Ilari, entra in area e viene sgambettato da Miceli. Rigore per il Rimini e giallo per il difensore della Samb. Dal dischetto Candido trasforma con una conclusione centrale, che vale biancorossi il 3-1. Punteggio con il quale si conclude l'incontro. I Romagnoli tornano alla vittoria, salgono a quota 37 in classifica, lasciando l'ultimo posto al Fano e si portano a meno uno dalla salvezza diretta.